Salve Romano, dopo due anni di top forzato, il Flair torna in pista, in scena. Il Flair non solo torna in pista, ma secondo me ci sarà un ritorno in Italia di questa disciplina che fondamentalmente verte sulla spettacolarizzazione del bar. Negli ultimi anni era un trend ormai dismesso in Italia, sta tornando, ci sono delle nuove leve che sono molto bravi, molto competenti, non solo nel lancio delle bottiglie, ma hanno anche acquisito un know-how tecnico su quella che è l'esecuzione del drink, per cui spettacolarità ma anche grandi contenuti all'interno. Grazie.